Benvenuti all'almanacco di Pavia 1 TV, è lunedì 26 giugno 2021. Duecentosettesimo giorno dell'anno, trentesima settimana, alla fine del 2021 mancano 158 giorni. A Roma sole sorge alle 4.59, tramonta alle 19.34, ora solare. A Milano sole sorge alle 5.01 e tramonta alle 19.58. La Luna tramonta alle 7.17 e si leva alle 21.31. Sciamme meteoritico delle Capricornidi. I Santi del Giorno, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. San Gioacchino è il protettore dei nonni. Sant'Anna è la protettrice di spultori, straccivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, cardatori e orefici. Festeggiamo anche San Caro di Malcesi, in Eremita, e San Savaterzo, arcivescovo di Serbia, chiese orientali. Il proverbio del giorno. Se l'uglio è asciutto, buon vino, spera. Aforisma del giorno. Nessun maggiore segno d'essere poco filosofo e poco savio, che volere savia e filosofica tutta la vita. Giacomo Leopardi Accade oggi, 1956, la tragedia dell'Andrea Doria. Partita con 1134 passeggeri, martedì 17 luglio, dal porto di Genova e diretta a New York, il transatlantico Andrea Doria si trova a affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in direzione opposta, viaggia la MN Stoccolma, un rompighiaccio svedese diretto a Gothenburg. Nonostante l'avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due pipaggi, alle 23.20 avviene un tremendo impatto con la nave svedese, che sperona la Doria, provocando uno squarcio lungo quasi tutta la fiancata della nave. Sei nato oggi? I nati il 26 luglio sono personalità fortemente dominanti. La loro autorità, tuttavia, non è tanto di natura fisico-finanziaria, ma dipende dalla loro capacità di comprendere le grandi verità della loro epoca e di personificarle nel pensiero o nell'azione. Queste persone esprimono una realtà contingente. Lo fanno con cognizione di causa, poiché la loro autorità è fortemente radicata nell'esperienza. I nati questo giorno sono tutt'altro che conservatori nella loro visione del mondo. Compleanni famosi 1943, Mick Jagger, il baronetto Sir Michael Philip Mick Jagger, titolo concesso da Sua Maestà la regina nel 2010, è prima di ogni altra cosa un'icona nella storia della musica. 1928, Stanley Kubrick Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo novecento, Stanley Kubrick ha sperimentato tutti i generi cinematografici e si è occupato dei film in ogni suo aspetto, lavorando come regista, sceneggiatore, produttore, direttore della fotografia, montatore, scenografo, creatore di effetti speciali e fotografo. Se avete altre notizie e curiosità da inviarci, fatelo a info.paviaunotv.it oppure via whatsapp al 389 25 66 296 Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video